La battaglia politica è legittima, è il sale della democrazia. Noi siamo convinti delle nostre opinioni che sono il frutto di 18 mesi di lavoro nei quali un testo inizialmente governativo è diventato un testo parlamentare per le numerosissime modifiche che sono intervenute prima alla Camera e poi al Senato. Quindi è un testo che il Parlamento ha discusso, che tutti i membri del Parlamento hanno potuto discutere lungamente come è giusto che sia quando si modifica la carta fondamentale degli italiani. E quindi questo è diventato un testo parlamentare che per noi, per il Partito Democratico, per la maggioranza è oggi un testo molto soddisfacente che finalmente cambierà in meglio il quadro istituzionale del Paese.